ciao amici di bestech e benvenuti in questo nuovo video sul canale è vero è qualche settimana che non pubblichiamo video sul canale ma vi assicuro non siamo stati senza niente da fare anzi abbiamo approfittato di questo momento di pausa per ragionare un po su come poter migliorare la qualità dei contenuti che portiamo sul canale e sul nostro portale vi spoilerò qualche piccola anticipazione il prossimo anno il portale www.bestech.it avrà una nuova impostazione grafica e organizzativa mentre sul canale porteremo alcune novità una su tutte l'apertura di una nuova sezione dove vi parleremo di nuove realtà imprenditoriali nel campo della tecnologia questa sezione prenderà il nome di b startup faremo quindi dei video e degli articoli dedicati a queste startup innovative parlandovi della loro storia del loro progetto e delle innovazioni che portano avanti con grande impegno speriamo che questo nuovo tipo di contenuti possa piacervi non perdete quindi il video di domani in cui parleremo della prima startup vi metterò magari alla fine di questo video qualche piccola anticipazione noi continueremo comunque a realizzare le nostre video recensioni e i nostri articoli sul portale quindi non dimenticate di iscrivervi al canale cliccare sulla campanella per attivare le notifiche di nuovi video online e non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video ciao